La scorsa notte sono stati rilasciati tre nuovi spot per Pokémon Legenda Archeus ed un nuovo gameplay di ben sei minuti. Andiamo ad analizzarlo insieme. Questo video comunque sarà più che altro un commento, quindi non ci saranno troppi tagli. Prendetelo un po' come banco di prova per le prossime live, che comunque ho intenzione di fare. Iniziamo subito con il primo videogameplay da sei minuti. Allora, fin qui nulla di nuovo, quindi sono tutte quante cose che abbiamo già visto. Qua possiamo vedere che comunque i Pokémon che nuotano nell'acqua hanno un effetto decisamente migliore rispetto a quello di Spade Scudo, dove tutto era decisamente molto piatto. Anche i Pokémon che camminano comunque, per fortuna, non sono come quelli di Diamante Lucente, Perla Splendente, per carità. Ecco, qui invece è interessante notare il fatto che Palla Ombra sembra inseguire l'allenatore. Come accade appunto nei giochi, potremo avere questo effetto qui. Qui abbiamo Cleavor e la scena in cui viene colpito l'albero e il consueto titolo. Anche qui invece abbiamo altre scene che abbiamo già visto. Gli ambienti di gioco purtroppo sembrano sempre abbastanza spogli. Qua abbiamo un Eevee che corre, quindi continuo a sperare in una sua nuova evolution. Bello il fatto che i Pokémon abbiano delle animazioni personalizzate quando si spostano. Qui abbiamo un Frozless, qua abbiamo una signora che sta spazzando il nulla. Qui invece possiamo vedere uno scorcio del Villaggio Giubilo, che anche questo purtroppo non sembra essere troppo caratterizzato. Possiamo vedere vari scorci di Pokémon selvatici. Per fortuna questo Golduck che possiamo vedere si gira decentemente. Qui invece arriviamo da Sorwan, che secondo me sarà il cattivo finale del titolo. Ma questo è un aspetto che andremo ad approfondire magari in un prossimo video perché non ci sarebbe il tempo in questo momento. Ecco, questa parte è interessante perché abbiamo ovviamente le informazioni su Syndaquil, che presumibilmente è lo starter che abbiamo scelto noi. Però possiamo notare anche Rowlet e Oshawott in bianco e nero. Quindi, dato che comunque probabilmente dovremmo andare a catturarli tutti quanti, ma non saranno disponibili in natura essendo starter, credo, dato che in questo artwork è possibile vedere Perula e Daemon con accanto i due starter, che potrebbero andare a prenderli loro, dato che comunque non abbiamo ancora gli allenatori Pokémon. Quindi è molto improbabile che ci siano troppe lotte in questi titoli. È possibile vedere Dialga e Palchia, che vediamo per la prima volta. Non hanno una forma, una variante o quello che volete, però secondo me questo non significa il fatto che non ne avranno una. Anche perché anche Archeus non ha una nuova forma o altro, ma sembra quasi confermato dai leaker il fatto che ne avrà una, anche se forse non sarà catturabile. Non è presente Giratina, e non essendo presente Giratina in realtà questo potrebbe suggerirci il fatto che Giratina sia proprio il boss finale, tra virgolette, di questo titolo. Perché Archeus non mi sembra mostrato come un Pokémon cattivo. E se ci fate caso, le nuvole che sono rappresentate in questo artwork sono molto simili a quelle che si possono vedere nel Kimono di Sorwan. Kimono di Sorwan che riprende il pattern di colori di Giratina. Quindi sono davvero sempre più convinto di questo collegamento. In questa parte invece possiamo notare che alcuni Pokémon reagiranno al lancio della Pokéball e cercheranno di attaccarci. Quindi in questo caso dovremo probabilmente andare subito ad attaccarli con qualcuno dei nostri Pokémon per indebolirli. Però come potete vedere non ci sono transizioni di battaglia. Qui invece abbiamo un Chimchar che sta dormendo e per fortuna stanno iniziando a utilizzare le animazioni dei Pokémon che già abbiamo. Perché comunque i Pokémon che dormono hanno tutti quanti una loro animazione preimpostata. Ma non vengono utilizzati in battaglia. L'ambiente di gioco comunque rimane troppo spoglio e non credo interagiranno tra di loro. Però almeno avranno delle animazioni diverse. Anche in questa parte possiamo notare il fatto che avranno dei comportamenti diversi. Questo Shinx si sta avvicinando al fiume, quest'altro dorme, l'altro corre semplicemente. Quindi molto probabilmente ci saranno determinati Pokémon che saranno molto più semplici da catturare in base al loro comportamento ed altri un po' meno. Questo Starlight ad esempio una volta che vede che siamo arrivati decide di fuggire. Quindi probabilmente o dovremmo andare a cercare di catturarlo facendo attenzione a non essere visti perché mi pare che questo allenatore vada di corsa verso di lui o comunque ce ne saranno alcuni che potranno scappare e basta senza che noi potremo farci nulla. Questa parte qui invece mostra qualche attacco dei Pokémon. Questo Garchomp secondo me è davvero fighissimo. Per questa parte qui Riddler Q ci dice che questo Garchomp sarà uno dei boss più difficili del gioco. che avrà il livello 85 e la mossa Ruggito. La mossa Ruggito che cambia in questo titolo e farà danno. Quindi non sarà soltanto una mossa che andrà a diminuire l'attacco del Pokémon. Questo Snorlax che blocca il passaggio ed è ovviamente uno dei Pokémon inferociti è anche quel Luxray. Stando a quanto dice Eclipse, in questa parte viene mostrato il fatto che potremo cambiare l'orario del giorno. E credo che sia stata data questa possibilità svincolata dal cambio dell'orario della Switch che comunque resta molto scomodo dato che bisogna sempre andare a spegnere e riaccendere il gioco perché alcuni Pokémon potremo catturarli soltanto in determinati momenti della giornata. Questo rende molto più plausibile il fatto che in realtà lo scopo vero e proprio sarà effettivamente quello esclusivo di andare a catturare tutti i Pokémon della regione. Nella lavagna invece, secondo sempre Eclipse, c'è una reference al Jumpluff beta. Per chi non lo sapesse, il Jumpluff che conosciamo attualmente era stato concepito con un aspetto molto diverso. Secondo Eclipse non avrà questo aspetto beta in leggende Pokémon, anche se a me sarebbe piaciuto tantissimo. Però ci sarà questa reference. In questa schermata invece abbiamo tre Pokéball in questa parte qui. Una Pokéball che indica i Pokémon visti, una Pokéball che indica i Pokémon catturati e una Pokéball che non so che cosa indichi. Secondo un leak, per incontrare Archeus dovremo aver completato il Pokédex di Isui. Ma mi sembra qualcosa di veramente troppo complesso, quindi credo che dovremo averli almeno quanto meno visti tutti quanti, un po' come accadeva in Diamante e Perla. Prima di andare nell'area svago avremmo dovuto vedere tutti i Pokémon, quindi completare in un certo senso il Pokédex. In questa parte invece, dopo una cattura che segnalerà quando un Pokémon nuovo è stato catturato, una cosa che in realtà succedeva soltanto in Solo e il Luna, se non erro, possiamo notare che il condivido esperienza è esteso a tutto il team anche in questo titolo. Invece questo numero qui credo sia legato ad una delle missioni che ci verranno richieste dal professore Pokémon. Possiamo poi notare un altro scorcio del villaggio Giubilo, con tutti i vari negozi che avevamo già visto. Questo è presumibilmente l'antenato di Plutinio, possiamo andare a comprare da lui vari strumenti. E questo invece è il Pokémon Ranch, io in questo momento lo chiamo così perché ricordo soltanto questo nome qui, che funzionerà da box Pokémon, che quindi ovviamente non è presente in questi titoli. Resterà a capire se quindi sarà soltanto presente a Giubilopoli, quindi dovremo andare ogni volta a riprenderli lì, oppure sarà disponibile in qualche modo anche in altri punti. Questa qui invece è la Sartoria con i vari outfit, che potremo andare ad utilizzare, i vari tagli di capelli e quant'altro, quindi nulla di nuovo anche in questo caso. E qui potremo andare a fare le nostre foto con i nostri Pokémon. Questa invece è la serie del Team Galassia che abbiamo già potuto vedere in molti altri trailer, questo è l'interno. Non sappiamo invece che cosa significhino questi punti, e il Riddler Q a riguardo ci dice che potrebbero rendere il titolo molto noioso, ma non ci dà nessuna nuova informazione a riguardo, o comunque ci spiega a che cosa dovrebbero servire. In questo scorcio invece possiamo vedere delle rovine del popolo originario di Isui, quindi tutti i vari templi che sono stati eretti per i Pokémon. Non so che cosa sia questo oggetto, questo elemento di sfondo, ma credo sia qualcosa di legato ai Pokémon selvatici, quindi credo che sarà qualcosa con cui potremo interagire in qualche modo. Altre rovine, e dobbiamo ancora capire perché sono tutte quante distrutte, cavalcature disponibili. Abbiamo Wiredir, tra l'altro ragazzi la grafica è quella che lo sapevamo sin dall'inizio, quindi non capisco tutte le persone che si stanno strappando i capelli quando si sapeva sin dall'inizio. Cleavor, quando andremo ad affrontarlo, dovremo utilizzare i Pokémon per indebolirlo e poi andare a catturarlo. Altri scorci della regione e tutta la sua purtroppo desolazione. Qui vorrei dirvi che questo Shellos e questo Gastrodon stanno interagendo, ma non credo proprio sarà così. Qua nello sfondo si può vedere una nave, credo distrutta, ma non ne sono troppo sicuro. E qui questa bellissima texture degna dei migliori titoli per PlayStation 1, ma lasciamo stare. Questa sequenza invece mostra una delle lotte presenti nel titolo con quelli che, ripeto, non sono dei veri e propri allenatori. Vediamo finalmente il retro dell'Archeus Phone, che ha ovviamente, come si era già intuito, il cerchio, l'anello di Archeus, non so come lo volete chiamare. La traduzione dovrebbe essere qualcosa tipo l'Archeus Phone sta reagendo. Reagendo a cosa? Ovviamente non possiamo ancora saperlo, però credo sia una delle cose che più mi interessano, perché voglio proprio sapere da dove arriva questo dannato Archeus Phone. L'antenatore Camilla invece ci dice è strano, vero? E anche qui non sappiamo se in realtà sia già a conoscenza di qualche informazione, stia quindi bleffando, o sia appunto la scena in cui troviamo l'Archeus Phone e anche lui non sappia spiegarsi la provenienza di questo strumento e quindi si stia interrogando sul modo in cui è potuto arrivare ad Isui. Vedendo tra l'altro Daemon, Perula e Soruan tutti e tre insieme in questa posizione, non so voi ma a me hanno ricordato fortemente di Alga, Palchia e Giratina, con Giratina che ovviamente fa da capo trio. Non lo so, mi sto convincendo sempre di più che Soruan sia in qualche modo legato a Giratina. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Come già visti in altri trailer, inoltre possiamo anche portare fuori tutti quanti i membri della nostra squadra. Non credo potremo andare in giro con tutti quanti al nostro seguito. Credo invece che potremo fermarci ad un certo punto e farli uscire tutti quanti fuori. È molto carino il fatto che tutti abbiano delle azioni diverse, c'è Magneton che ci osserva, c'è Ursaring che si è seduto e invece loro due che stanno dormendo, mentre Piplup invece sta, credo, giocando con noi. E così si chiude il primo gameplay di sei minuti. Andiamo ad analizzare gli altri tre che comunque sono molto più corti. Allora, in questo in realtà c'è davvero pochissima cosa perché abbiamo vari scorci della regione di Isui e dei Pokémon che vivono in questa regione. La cosa più interessante, secondo me, è quest'albero che è segnalato anche nella mappa di Isui. Quindi credo che potremo interagire in qualche modo. E tra l'altro, se non erro, in uno dei trailer viene proprio mostrato il fulmine o quello che è, che viene lanciato da Archeus e porta i Pokémon ad essere incolleriti, colpire proprio un albero. E credo proprio sia quest'albero. Non so quale possa essere il collegamento, però il fatto che sia stato segnalato in mappa credo sia importante. Stessa scena del Pokémon che ritorna normale dopo essere stato incollerito, il Pokémon ovviamente regale, e si chiude il primo spot. Secondo spot. Pokémon che per fortuna camminano come dovrebbero camminare, quindi senza animazioni tremende. Una Bomasnow. Sempre la stessa scena di Cleavor. Ed ecco qua l'albero gigantesco che viene colpito. Altri attacchi di Pokémon incolleriti. E qui abbiamo sempre lo Snorlax che ci blocca il passaggio. Tra l'altro voglio farvi notare il fatto che Snorlax tiene gli occhi chiusi e a differenza della sua mossa Z, dove in realtà li apre anche se sono completamente rossi, qui hanno soltanto aggiunto il bagliore. E devo dire che questa cosa non mi fa impazzire. Però molto bello è il fatto che la pioggia e tutti gli agenti atmosferici saranno visibili sui nostri vestiti. Non mi pare siano visibili sui Pokémon, però non possiamo pretendere troppo. Zoroark di Zui in una lotta. E si chiude anche il secondo spot. Terzo spot. Un Eevee che corre, quindi ripeto, io voglio assolutamente una nuova evolution, ma qualcosa mi fa credere che non ci sarà. Uno Psyduck seduto che si tiene la testa. Un Pipla, Wiredeer. Quindi la nostra solita cavalcatura. E nient'altro, tutte queste scene sono sostanzialmente già viste. Questo Gastrodon in questa zona qui credo sia una delle cose più tristi che vedremo in questi giochi perché è davvero tutto estremamente spoglio. Non c'è il benché minimo dettaglio. Anche in questa posa, ragazzi, io continuo a vedere di alga, palchia e ghiratina. E si chiude anche il terzo spot. Bene ragazzi, spero che questo video non sia stato troppo lungo. Scusate le mie incertezze grammaticali e vocali, ma credetemi, è molto difficile per me che solitamente leggo un copione e sto molto attento a tutte le varie pronunce e parole che utilizzo. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo in un nuovo video. Grazie a tutti.